Musica Cordiale saluto, calcio atletica, pugilato e basket nel sommario della pagina sportiva. Apriamo con il calcio e con la lucchese, secondo test precampionato per i rossoneri impegnati a Borgo a Bugiano contro il tau calcio Alto Pascio. Un passo in avanti per la lucchese d'Ivan Maraia rispetto alla gara col Seravezza. I rossoneri fanno allenamento congiunto, ormai si dice così, contro il tau calcio Alto Pascio sul terreno di Borgo a Bugiano e stavolta la prova complessiva è senza dubbio più incoraggiante. Insomma il lavoro comincia a pagare, fermo restando che a 20 giorni e poco più dall'inizio del campionato a questa lucchese mancano ancora due o tre tasselli importanti per potersi dire completa. Maraia si affida come sempre al 3-5-2 davanti a Cucchietti, Coletta rimane a riposo al pari di Ferro, sorprende la posizione di Nannini che gioca da braccetto sinistro al fianco di Bacchini con Merletti a completare il trio. A centrocampo, oltre a Bensaia ad agire da regista ma dovrebbe partire, gioca fin dal primo minuto Rizzo Pinna, due cognomi, un solo talento, ora in espresso ma potenzialmente eccelso. Là davanti la coppia è formata da Catania e Romero ed è proprio del gigantesco centroavanti l'unico gol di giornata da due passi l'ex attaccante del Potenza in sacca sfruttando una corta respinta del portiere altopascese dopo schema su calcio di punizione. Nella ripresa spazio a tutti gli altri a parte gli acciaccati suddetti, buone indicazioni anche per il tecnico del tau calcio Pietro Cristiani, di Amaranto sono attesi allo storico debutto in Serie D ma appaiono formazione in grado di poter recitare la loro parte con l'obiettivo dichiarato della salvezza. Tornando alla Lucchese, prossimo test sabato ore 17.30 al Necchi Balloni di Forte De Marmi contro il Real Forte di Simone Venturi, altra compagine di Serie D. Tutto questo aspettando sempre importanti novità dal mercato. E intanto è stato reso noto il girone di cui farà parte la Lucchese per la stagione 22-23, anche quest'anno è il girone B. Vediamo la composizione con squadre di ben sette regioni. Alessandria, Ancona, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Emolese e Lucchese ed ancora Montevarchi, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, Sandonato, Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entelle e Vispesaro. Venerdì, nella giornata di venerdì, saranno ufficializzati anche i calendari. Vi ricordiamo che il campionato comincerà nel fine settimana del 27 e 28 agosto. Scendiamo in Serie D. Il Real Forte Querceta, sempre molto attivo sul mercato, ha ingaggiato il centrocampista Matteo Bucchioni. Scuola Empoli, il giovane calciatore, classe 2004, approda Forte De Marmi per quella che è la sua prima esperienza nel calcio dei grandi. La notizia è arrivata poche ore fa, riempito di soddisfazione e d'orgoglio e tutto l'ambiente dell'atletica Virtus Lucchia. Roberto Orlando parteciperà infatti al campionato europeo di atletica leggera in programma a Monaco di Baviera dal 15 al 21 agosto. Il due volte campione italiano sarà in gara nel lancio del giavellotto. Il forte lanciatore salernitano, che venerdì compie 27 anni, tanti auguri, scenderà sulla pista dell'Olimpia Stadium per le qualificazioni venerdì 19 agosto. La finale è in programma domenica 21 agosto. L'auspicio è che Roberto possa tornare su una misura intorno agli 80 metri, che potrebbe garantirgli la finale europea. Samuele Giuliano, campione italiano elite under 22, categoria 80 kg, è stato convocato per il raduno di Assisi in programma dal 5 al 9 agosto. Stiamo parlando ovviamente di Pugilato. Sono 10 gli azzurri under 22 che prenderanno parte al training camp in Umbria, agli ordini dei tecnici Agnuzzi, Stefani e dell'indimenticabile grande campione Sumbu Kalambai. Ricordiamo che il 29 giugno scorso, stiamo vedendo alcune fasi del match, a Chianciano Terme, Samuele Giuliano, classe 2003 di Borgo Ammozzano, si è laureato campione italiano elite della categoria 80 kg under 22, battendo in finale il temibile Emiliano Domenico Vinci Guerra. È evidente che tra questo gruppo di 10 pugili potrebbero esserci anche elementi interessanti, e questo vale anche per Samuele, in prospettiva olimpica. E ogni riferimento a Parigi 20-24 non è affatto casuale. Abbiamo parlato in apertura che venerdì ci sarà il calendario della Serie C di calcio, c'è già invece il calendario della 1 di basket femminile. Vediamo nel dettaglio il calendario che attende il Gesam Lemura dopo il debutto con Campobasso nell'opening day di Cagliari, domenica d'ottobre ore 16.15. Subito una ghiotta prima al Palatagliate. La seconda giornata, un turno infrasettimanale, prevede mercoledì 5 ottobre il match contro il team Crema, allenato da Beppe Piazza al Palatagliate. Avvio relativamente morbido per Miccoli e compagnie, che la terza saranno a Sassari, contro una Dinamo peraltro rinforzata dal mercato. Seguiranno l'ormai classica gara interna con San Martino di Lupari e la quasi proibitiva trasferta del 23 ottobre a Bologna con la fortissima Virtus, considerata addirittura la grande favorita per lo Scudetto. La trasferta di San Giovanni Valdarno e poi la Reier Venezia, prima grande di passaggio al Palatagliate. Ancora la Geas fuori, lo schio in casa, viaggio in quel di Moncalieri e un'altra grande ragusa di Mirko Diamanti di scena al Palatagliate. Quindi in soldoni, nel girone di andata, quasi tutte le più forti tra le mura amiche. Chiusura relativamente piacevole con Brescia in casa e faenza in trasserta al 21 dicembre. Ah, la prima di ritorno, manca ancora la conferma ufficiale, ma al momento il calendario dice che dovrebbe giocarsi domenica 1 gennaio 2023 in casa o fuori con Campobasso, dipenderà dall'esito della partita di Cagliari dell'Opening Day. La prima fase si chiuderà domenica 26 marzo, poi sarà già tempo di play-off e play-out. Così il commento del coach bianco-rosso Luca Andreoli, non mi lamento del calendario, prima o poi bisogna affrontare tutte le rivali, sarà fondamentale calibrare bene la preparazione, siamo determinati e carichi per questo campionato, che alla luce dell'ottima campagna acquisti a chiosato Andreoli, compiute da tutte le contendenti, sarà di alto livello. E prima di chiudere vi ricordo che il raduno del nuovo GESAM Lemura Lucca avverrà mercoledì 17 agosto alle ore 16.30 al Palatagliate, ovviamente. E' tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del Ticino, una breve pausa e poi il nostro telegiornale prosegue con la terza ed ultima parte.